Il PD sceglie Fabrizio Micari come suo candidato alle prossime elezioni regionali. In suo sostegno anche il Luco Orlando, primo a esporsi, Dem, centristi di Casini e Dalia e a breve Angelino Alfano, che non ha ancora formalizzato l'appoggio. Alfano spera che l'eurodeputato di AP Giovanni Lavia possa ricoprire la carica di vicepresidente. Ancora incerta la posizione di Rosario Crocetta. Dopo la dimostrazione di interesse del gruppo per una Sicilia ai siciliani, ieri proprio la segreteria del PD ha deciso di coinvolgere il governatore uscente nell'operazione Micari con lo scopo di creare continuità con quanto fatto in questi anni e di inviare il dossier da Palermo alla sede del Nazareno. Il partito intanto è diviso tra chi come Cracolici e il segretario Fausto Raciti è convinto che la candidatura di Micari ha senso solo se Crocetta rientra nei ranghi e dal suo contributo anche con una propria lista e sul versante opposto i renziani di Faraone, Sicilia Futura e di Cardinale, soprattutto Orlando, che sono per una discontinuità più marcata. Anzi, secondo loro, la presenza di Crocetta al loro fianco farebbe solo perdere più voti. L'ultima parola aspetterà il governatore, che dovrà decidere se restare in una coalizione nella quale per alcuni è un ospite indesiderato o ritentare l'avventura con il megafono.